Era il 12 dicembre 2015, quando viene rinvenuto nei pressi del cimitero di Belvedere Marittimo, Tirreno-Cosentino, il corpo carbonizzato di una persona, riconosciuta più tardi nella giovane madre Silvana Rodriguez De Mato, identità confermata dalla prova del DNA. Dopo mesi di indagine viene tratto in arresto per il presunto omicidio Sergio Carrozzino, della cittadina tirrenica e soggetto già nota alle forze dell'ordine. Unico imputato e accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, ad incastrarlo le immagini della videosorveglianza del supermercato dove la Rodriguez si era recata per spese e che avrebbero ripreso l'uomo mentre si trovava nei pressi della Fiat Punto Verde di proprietà della famiglia della vittima, su cui più tardi è stato rinvenuto il cadavere. Ad aggravare la posizione di Carrozzino la testimonianza di un supertest avallata da altri testimoni che confermano la presenza dello stesso nell'area di parcheggio del supermercato. Nell'udienza di corte d'assisi a Cosenza, presieduta dal giudice Garofalo, si è chiusa l'istruttoria dibattimentale, al banco ICTU della pubblica accuse della difesa, ad essere ascoltata anche il medico legale Vercillo che ha dichiarato effettuato un esame diretto visivo delle vie aeree e un esame microscopico istologico abbiamo trovato particelle di fuligine, di nero fumo, che penetrano quando c'è attività respiratoria, segno che il soggetto era ancora vivo. L'edema polmonare presuppone una sofferenza cardiaca e quindi una morte asfittica. Può essere possibile dunque che la donna fosse in uno stato di incoscienza nell'auto. Non si può escludere che la morte sia avvenuta per strangolamento o soffocamento. Possiamo solo dire che al momento dell'incendio era ancora viva. Un particolare che va ad aggiungere feroce crudeltà ad una storia che ha segnato drammaticamente la comunità di Belvedere Marittimo e non solo, soprattutto perché l'efferrato gesto è stato dettato da senso di predominio e violenza pura nei confronti di una giovane donna che si è difesa sino alla fine alle richieste del suo aguzzino. Il prossimo mese di marzo le conclusioni del PM e delle parti civili in attesa della sentenza.